Musica Allora, Carra ha cercato di rubarsi le chips dell'altro Carra, ci siamo riusciti? Sì, è vero, è stata una manovra che ho provato questa notte ma il casino era chiuso e perciò rimarrò con le mie 46.000 chips Siamo short ma boia chi molla, come si dice in gioco? Sì, siamo short esclusivamente di chips, per il resto non siamo short Siamo in salute, vi siamo a casa Però siamo in salute Torneo è bello, saluto mamma, saluto tutti Senti, giornata di ieri con grande fatica perché sono alti e bassi, un po' di stress da tavolo Io penso che l'importante è sempre esserci perché comunque a prescindere dai premi o meno l'importante è sempre ritrovarci qua tutti ormai Tu giochi da un po' di anni, come è cambiato il giocatore medio italiano? Stiamo migliorando molto Che prima usavamo la giacca ad esempio, adesso vedo gente con le tute Queste polemiche sullo style No, 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 io sono solamente dicendo com'è cambiato Una volta usavamo la giacca Vedi quanto sei bello tu Esattamente, l'unica giacca che ho, lo porto alla mia cresima, ero già piccolo così No, penso che sia cambiato esclusivamente sul numero Mi ricordo tornei nel 2007, fare un torneo del genere eravamo già 3-400, era una cosa eccezionale Adesso vedo che settimanalmente in tutti Io lo lascerei perché ho voglia di fare tanta azione nelle prime ore Sì, ho l'autostrada in partenza fra la mezz'oretta E dal gas anzi di Milano è tutto Abbracciameli tutti, ci vediamo alla prossima Abbraccio tutti, Michele che è in arrivo, mio figlio Ciao Michele Ciao ragazzi, bellissimo Ciao